salve a tutti sono il dottor placentino filippo sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori in questo video vi vorrei parlare di un esame diagnostico che è l'ecocardio color doppler o ecocardiografia o ecografia cardiaca potete trovare altri video formativi e informativi come questo sui miei canali social youtube facebook e instagram dottor placentino filippo cardiologo e aritmologo l'ecografia cardiaca è un esame molto importante perché ci permette di risalire a molte informazioni sullo stato di salute del cuore è definito un esame morfo funzionale morfo per morfologico perché può vedere la forma del cuore le dimensioni i volumi l'area gli spessori è funzionale perché può risalire alla funzionalità del cuore in primis la contrattività miocardica poi anche allo stato di funzionalità delle valvole vedendone anche i gradienti vedendo il color doppler si tratta di una metodica ormai ampiamente diffusa e alla portata di qualsiasi ambulatorio senza assolutamente mettere in secondo piano la medicina tradizionale la semiotica l'utilizzo del fonendoscopio per auscultare l'utilizzo dell'elettrocardiogramma l'ecocardiografia sta rivestendo un ruolo sempre più importante perché ci permette davvero di fare una valutazione molto più accurata questo esame non prevede una particolare preparazione da parte del paziente si verrà richiesto di essere sdraiati su un lettino posti in posizione laterale sinistra dopodiché il cardiologo con l'utilizzo della sonda ecografica e di una gelatina che verrà apposta sulla sonda andrà poi sul torace del paziente andrà a vedere da diverse proiezioni quindi diverse angolazioni tutte le informazioni necessarie per risalire appunto allo stato di salute del nostro cuore l'ecocardiografia è un esame utile in tutte le situazioni cardiologiche se pensiamo alle principali richieste di vista cardiologica queste sono per dolore toracico per affanno la dispnea sotto sforzo per aritmie in tutte queste condizioni l'ecocardiocolordoppler ci può dare delle informazioni molto molto importanti la durata di questo esame è molto variabile in base a quello che si va a trovare caso per caso solitamente l'esame dura tra i 10 e i 15 minuti ma ci sono casi in cui l'esame può durare anche molto di più fino ad arrivare a 25 30 minuti questo esame utilizza per ricostruire le immagini gli ultrasuoni una metodica utilizzata anche in gravidanza dunque non utilizza raggi x o altre onde dannose per la salute l'esame di cui ho parlato è l'ecografia transtoragica cioè quella che viene fatto dall'esterno del torace esistono anche altre forme di ecocardiografia come l'ecocardiografia transesofagea che è simile a una gastroscopia dove una sonda viene inserita attraverso la bocca per vedere il cuore dall'esofago dove si vede solitamente meglio rispetto alla posizione transtoragica esistono anche altre forme più utilizzate più raramente come l'ecografia intracardiaca cioè quella che viene fatta all'interno direttamente all'interno del cuore durante alcune procedure di solito aritmologiche esiste anche un'altra forma di ecocardiografia che è quella con contrasto che viene utilizzata solo in particolari situazioni oppure l'ecocardiografia sotto sforzo che ci serve per vedere se sono presenti delle alterazioni della contrattività del cuore sotto sforzo. Come già detto l'ecocardiografia è utile in tutte le condizioni cardiologiche ma in particolare nello scompenso cardiaco l'ecocardiografia è molto utile sia per la diagnosi sia per il follow up. Quindi ricapitolando l'ecocardiografia è una metodica molto importante per risalire a quelle informazioni morfo funzionali del nostro cuore. Utilizza gli ultrasuoni per ricostruire le immagini ed è ormai ampiamente diffuso. La metodica più utilizzata è l'ecografia transtoracica cioè quella che si esegue sopra al torace del paziente con della gelatina, una sonda ecografica e l'apparecchio che è l'ecografo. È sempre importante portare in visione al cardiologo che esegue questo esame tutta la documentazione cardiologica in possesso e anche la terapia che si sta assumendo in modo da poter valutare caso per caso tutto ciò che è necessario. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e condividetelo. Seguitemi sulle mie pagine social di Facebook, YouTube e Instagram dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti. Grazie a tutti.